Ciao ragazzi, ben ritrovati! Oggi abbiamo avuto il rilascio del trailer di Foot23 Trailer che ci ha spiazzati forse, non lo so A me sono caduti i capelli come potete vedere Ma andiamo a vedere le principali novità che avremo in FIFA 23 Ultimate Team Non dimenticate di lasciare un like al video e iscrivervi al canale YouTube Per non perdere tutte le news da qui all'arrivo di FIFA 23 E soprattutto per parlare di compravendita da settembre in poi Prima grande novità confermata Il sistema di intesa cambia radicalmente Quindi non avremo più un sistema di punteggi da 0 a 100 punti Bensì avremo un sistema di stelle da 0 a 3 stelle massimo E l'intesa funzionare in questo modo Carte, icone e eroi Quindi gli heroes e le icon avranno intesa massima con chiunque Indipendentemente da nazione e campionato Mentre i giocatori potranno avere intesa anche se non si trovano vicini Quindi per esempio un giocatore come Courtois Porteo del Real Madrid Farà intesa con Benzema ruolo ATT Semplicemente perché militano nella stessa squadra E perché stanno nella nostra formazione titolare Allo stesso modo può fare per esempio Leao terzino sinistro Con un ipotetico Calabria Scusate esterno sinistro Con un ipotetico Calabria terzino destro Per dire Quindi basta che abbiano per esempio una caratteristica in comune Come ad esempio la stessa squadra Altra novità che già avevamo accennato È il discorso cambio ruolo Quindi toglietevi dalla testa le carte cambio ruolo Da CC a CDC Da CC a COC COC a T Eccetera eccetera Non esistono più Esisterà una semplice carta generica cambio ruolo Che permetterà di cambiare il ruolo Da primario a secondario ad un giocatore Quindi i giocatori avranno un ruolo primario E un ruolo secondario Che dovrebbe essere dato dalla posizione In cui ha giocato quel giocatore Con quella squadra o nella sua carriera Quindi per esempio Messi Che ha spesso giocato da dietro le punte E solitamente giocava da esterno d'attacco alto di destra Avrà ruolo probabilmente a T E a D O magari CR7 avrà a TT O a S Cancelo può avere TD O TS E così via Con una carta cambio ruolo Potremmo cambiare il ruolo da primario a secondario Al nostro giocatore Altra grande novità È l'arrivo di una nuova modalità di gioco All'interno di foot Quindi non solo squad battles Rivals Foot Champions e Draft Bensì avremo il foot moments Cosa vuol dire? Vuol dire che potremo ripercorrere Determinati momenti salienti Della carriera di un giocatore Come magari una partita Il finale di un match Non so se cambiare le sorti Di una partita andata male Ma ripercorrere momenti salienti Della storia del calcio Magari legata anche a Champions League Europa League Avendo la licenza ufficiale UEFA Potremo ottenere delle foot moments Che sono una nuova moneta di gioco Definiamola così Un po' simile ai crediti Che potremo scambiare Quindi otteniamo le moments star Potremo spenderle per ottenere Pacchetti all'interno di foot Presumibilmente non scambiabili Carte particolari E altri oggetti all'interno di ultimate team Ultima novità Ma questa non è una reale novità È solo una conferma al 100% Con l'arrivo dei mondiali in Qatar 2022 Avremo la modalità attraverso un DLC gratuito Dedicato ai mondiali Quindi sia avremo la modalità World Cup Al di fuori di ultimate team Come sempre abbiamo in FIFA Avremo inoltre una modalità World Cup DLC Dentro ultimate team Dentro foot I dettagli chiaramente del suo funzionamento Arriveranno probabilmente più avanti Con il passare del tempo Ancora un po' prematuro Il rilascio dovrebbe essere tra metà e fine novembre E è confermato la presenza delle versioni Heroes Dei calciatori che abbiamo visto quest'anno Come eroi foot Anche in versione Heroes World Cup Dunque ragazzi Queste sono tutte le principali novità Confermate per FIFA 23 Ultimate Team Fatemi sapere nei commenti qua sotto Se vi piacciono le novità Avreste voluto vedere altro Vi fanno cacare O se avete forte hype per l'arrivo di FIFA 23 Non dimenticate di lasciare un like Commento Iscrivvi al canale E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao